Tony Russo, 15 artisti a confronto con l'Art Blut di Filippo Bentivegna in un anno particolare che è appunto quello del cinquantenario della sua morte. Sì, un cinquantenario che abbiamo voluto fortemente con il Castello Incantato portare avanti e ricordare attraverso delle mostre. Questa è la terza mostra che noi dedichiamo a Filippo Bentivegna. Abbiamo avuto una mostra dei nostri studenti del liceo artistico, poi una personale con Leonardo Fisco e questa sera sarà inaugurata alle 18.30 la mostra di 15 artisti, non li ricordo tutti chi sono, che saranno qui appunto esposti nel nostro circolo fino al 22 di novembre. Il circolo di cultura il 19 poi ci sarà un altro appuntamento sempre dedicato a Filippo Bentivegna. Sì, questa volta è un appuntamento teatrale perché il nostro artista attore, che sarebbe Nicola Puleo, reciterà e leggerà un brano tratto da un racconto che è dedicato a Filippo Bentivegna, scritto da una signora che è stata al Castello Incantato e le ha ispirato un bellissimo racconto e questa è una sintesi del racconto fatta da Nicola Puleo il 19 novembre e fa parte delle partiture al circolo che noi portiamo avanti per tutta la stagione. Franco Volpe, questa mostra qui al circolo di cultura, non ci sono solamente quadri ma anche installazioni, quindi anche artisti di varie generazioni che si confrontano sul tema di Filippo Bentivegna e della sua art. Sì, esatto. Come diceva Tone, appunto sono 15 gli artisti che espongono, le opere sono 20 e che oltre a quadri comprendono anche delle sculture e ci sarà anche un'installazione in ceramica. Le tecniche sono diverse, si passa dalla tecnica d'olio, acrilico o anche carboncino. Sì, oltre diciamo ci sono anche dei giovani artisti proprio per dare la possibilità a loro prima di far conoscere anche l'artista e quindi promuovere ciò che noi appunto abbiamo, in questo caso insomma Filippo Bentivegna. Poi nel guardare le opere si può notare che il tema ricorrente si riscontra in quasi tutti i lavori, nel senso che proprio perché il motivo è quello che si dovevano ispirare all'artista Bentivegna, quindi il tema ricorrente sono i grattacieli, le teste, i pesci, che sono diciamo i tre elementi che sono quelli che caratterizzano appunto l'opera di Bentivegna.